Benvenuti a questa nuova puntata di Archivio True Crime, io sono Gian Guido Zurli e oggi vi racconterò di un caso misterioso avvenuto nel lontano 1954, l'omicidio di Domenica Rustici, conosciuta anche come Minghina. In questa puntata esploreremo i dettagli del caso, le testimonianze e gli avvistamenti di questo omicidio irrisolto, il primo di una serie di cui iniziamo a trattare in questo episodio. Grazie a tutti! Sono le ore 8 del 5 novembre 1954, il telefono del centralino della questura di Parma squilla per avvisare che un contadino ha rivenuto il cadavere di una donna in un fosso a Mariano, alla periferia sud della città. Partono quindi alcuni mezzi della squadra mobile con a bordo il commissario Antonino Giorgiani e il brigadiere Hermes Zappavigna, futuro comandante della squadra mobile, accompagnati da uomini in divisa e da un paio di tecnici della polizia scientifica. Giunti in via Cocconi, che oggi si chiama via Angelo Braga, gli inquirenti iniziano a interrogare i testimoni. Nel fossato adiacente alla strada di Campania giace il corpo di una donna, è immobile, vestita di nero, con un abito nero, leggero e inadeguato per quel clima rigido. Il contrasto tra la giornata gelida e l'abbigliamento della donna salta subito agli occhi degli investigatori. Non indossa alcun cappotto e non ce n'è traccia sulla scena del crimine. Anche la borsetta, un oggetto che normalmente avrebbe dovuto accompagnare la vittima, sembra svanita nel nulla. Non ci sono apparentemente segni di violenza. Ma chi è la vittima? Il brigadiere Hermes Zappavigna la riconosce subito. Non è schedata, ma è conosciuta da tempo per essere una prostituta. Una mondana, come le chiamavano all'epoca. Si chiamava Domenica, Domenica Rustici, detta Minghina. Aveva 39 anni, madre di due figli e moglie di un certo Ennio Camisani Calzolari, un proprietario terriero di Rocca Prebalza, vicino a Berceto, nell'Appennino Parmense. I due erano sposati da qualche anno, ma di fatto conducevano vite separate. Durante il periodo bellico, e subito dopo la guerra, le loro condizioni economiche erano certamente migliori, probabilmente perché facevano affari con il mercato nero. La donna, dopo aver ereditato una discreta somma, si era trasferita con i figli a Parma, dove aveva comprato un appartamento in via Garibaldi, 37. L'uomo invece era rimasto a Rocca Prebalza e si riuniva alla famiglia soltanto d'estate, quando tornavano nel Bercetese per trascorrere le vacanze. Domenica era una donna vivace e, dalle carte degli inquirenti emerge che, pur non avendone bisogno, si era data alla prostituzione clandestina, suscitando l'invidia e l'antipatia delle altre mondane. Domenica, inoltre, aveva numerosi amanti altolocati, tra cui un avvocato, un imprenditore ed un funzionario della prefettura. La zona dove all'epoca battevano le prostitute a Parma era vicino alla stazione, Viale Toschi, Viale Zanardelli, che oggi si chiama Viale Mariotti, e Viale Toscanini. La sera del 4 novembre, apparentemente, nessuna collega di Domenica è assolutamente certa di averla vista salire a bordo di un'auto con qualche cliente. Alcune però sembrano ricordare che la donna si è montata su uno specifico tipo di automobile, con già a bordo due persone. Altre invece descrivono un altro modello, ma non sanno indicare quanti uomini c'erano dentro. Ma hanno detto la verità. La stessa sera, dopo cena, verso le 21.30, Domenica è uscita di casa e si è recata in Viale Toscanini. Quindi ha proseguito il suo itinerario passeggiando verso la stazione ferroviaria. Intorno alle 10.15, due prostitute notano in Viale Mariotti una Fiat 1100 vecchio tipo grigia, impolverata, targata Parma, che transitava avanti e indietro con a bordo due persone. Qualche minuto dopo vedono nuovamente una macchina con a bordo alcune persone, tra cui una donna. Il veicolo era diretto verso sud. Le due testimoni non videro più né la Rustici né quella Fiat 1100. Le due prostitute avrebbero visto ben in faccia le persone all'interno dell'automobile e le avrebbero descritte con un aspetto poco raccomandabile. Secondo il rapporto del commissario, però, le due donne si sarebbero dimostrate imprecise e reticenti. Ci sarebbero stati altri avvistamenti di auto simili in quella zona, con a bordo due persone ed una donna. Tuttavia, nessuno è stato in grado di identificare con certezza in domenica Rustici la prostituta caricata dai due sconosciuti. La Gazzetta di Parma inizia ad ipotizzare sull'onda emotiva di un caso di cronaca molto famoso all'epoca, quello di Vilma Montesi, rivenuta a cadavere su una spiaggia di Torvaianica, morta per un malore dopo un festino con personaggi importanti, che la donna sia deceduta per cause naturali, per essere stata poi abbandonata in quel fossato a Mariano. Ma il medico legale, Giorgio Vidoni, però, non ha alcun dubbio ad indicarne la morte come risultato di un omicidio. La donna è stata soffocata con un mezzo soffice che non ha lasciato segni esterni. Gli esiti dell'autopsia non vengono divulgati alla stampa, che viene lasciata credere che la causa del decesso sia sconosciuta. In realtà, il professor Vidoni ha accertato che Domenica è stata soffocata con qualcosa che non ha lasciato segni esterni, come ad esempio un cuscino. L'omicida ha premuto il volto della vittima da dietro contro questo mezzo soffice. Si tratta di una vera e propria firma che troveremo anche negli altri delitti delle prostitute avvenute a Parma nel dopoguerra. Viene infine escluso anche qualsiasi tipo di violenza o di rapporto sessuale. Il giorno successivo a quello del ritrovamento, il 6 novembre, la polizia scientifica ritorna ad effettuare dei rilievi, stavolta in via Budellungo, sempre alla periferia sud della città, dove un operaio in pausa di un vicino cantiere edile ha rinvenuto la borsetta della donna. La riconosce perché al suo interno ha trovato la carta d'identità di Domenica Rustici, la donna morta di cui parlano i giornali. Una volta consegnata la borsetta in questura, al suo interno gli inquirenti trovano tutto il contenuto che viene fotografato ed apparentemente sembra che non sia stato rubato nulla. Il luogo di questo rinvenimento è un indizio? Via Budellungo si trova sempre alla periferia sud della città, ma spostato più verso est rispetto alla scena del crimine. L'assassino deve quindi aver percorso le strade di campagna della zona per arrivare fino a quel punto dove forse si è accorto solo in quel momento della presenza della borsetta rimasta in auto, decidendo quindi di sbarazzarsene. Ma ci sono altre cose che mancano all'appello. Il cappotto ed un paio di mutandine, anche se non è certo che queste ultime fossero effettivamente indossate dalla vittima. Non è molto utile, ma sul posto viene fotografata anche l'impronta di una scarpa lasciata sull'erba. Era l'impronta dell'assassino. In ogni caso, la borsetta con il suo contenuto verrà restituito ai familiari qualche tempo dopo e da allora non si avrà più notizie di questi reperti che forse potevano contenere qualche traccia biologica interessante da rilevare, ma queste tecniche purtroppo erano sconosciute ai tempi. Come prassi, il primo sospettato da parte degli inquirenti è il marito, Ennio Camisani Calzolari, che non mostra alcun tipo di dispiacere per la morte della moglie. Gli investigatori però sono costretti a lasciarlo andare. Camisani ha un alibi di ferro, era in paese, a Rocca Prebalza, la notte dell'omicidio e inoltre non possiede alcun tipo di mezzo di locomozione, se non un piccolo scooter. Strano personaggio questo Camisani, sentiremo ancora parlare di lui. Il Camisani Calzolari proviene da una famiglia molto benestante, il cui patrimonio, dopo la morte del padre, avvenuto in manicomio a Reggio Emilia, venne depauperato a causa della cattiva amministrazione della madre, riportata nelle carte degli inquirenti come donna di scarsa moralità. A Rocca Prebalza, il 46enne Camisani, vive da solo e frequenta per lo più compagnie di giovani a causa del suo strano carattere infantile ed accomodante. Vengono anche sentiti i figli della vittima, che riferiscono che la madre, il giorno prima, era andata a trovare una parente ricoverata nel reparto maternità dell'ospedale maggiore di Parma. In quel pomeriggio fu anche vista in città da un maresciallo di polizia, mentre si trovava a bordo di una Fiat 1100 nuova, in compagnia di uno sconosciuto. Potrebbe trattarsi di un amico di famiglia, anche lui amante della donna, che dal 21 ottobre all'8 novembre è stato anche lui all'ospedale maggiore, al capezzale della moglie ricoverata per peritonite. Nel frattempo vengono rintracciati ed interrogati tutti gli amanti conosciuti della donna e i suoi clienti abituali. Tutti presentano un alibi e nessuno di loro aveva un movente per uccidere Domenica. Si indaga anche fuori città. C'è un uomo residente a Milano su cui la squadra mobile di Parma ha puntato gli occhi. Si tratta di uno squilibrato di mente, invalido di guerra, e gli investigatori lo ritengono capace di commettere atti inconsulti, anche violenti. Egli però nega decisamente di essere venuto a Parma con la sua autovettura la sera del 4 novembre e non risulta aver mai preso alloggio a Parma. Ma l'uomo di Milano non è l'unico personaggio sospetto ad attirare l'attenzione degli inquirenti. Nel corso delle indagini emergono altri due individui già noti alla polizia per il loro passato torbido. Sono uomini pericolosi, con precedenti specifici legati a episodi di violenza, in particolare contro le prostitute. Il loro nome è venuto fuori non per caso, la polizia li conosce bene e li tiene d'occhio da tempo. Entrambi i sospettati però riescono a dimostrare di avere un alibi solido e vengono lasciati andare. Poi ci sono alcuni testimoni che quella sera, vicino al luogo del ritrovamento, hanno visto qualcosa di strano. Il titolare di un'osteria della zona si presenta in questura e racconta che verso le 23 del 4 novembre avrebbe visto qualcosa insieme a un paio di amici, i tre si trovavano in auto e stavano ritornando da una battuta di caccia ed una volta giunti all'altezza di Ponte d'Attaro e girando a sinistra in via Montebello, il proprietario dell'osteria notò un'autovettura grigia, una Fiat 1100 nuovo tipo, targata Parma, ferma sul ciglio della strada. All'interno vide adagiata, al centro del sedile posteriore rigida e con il capo rivolto all'indietro, una donna vestita di scuro, con i capelli scuri, che sembrava fosse morta. Vide pure un uomo seduto sul sedile anteriore desto, mentre il posto di guida era vuoto. Sembra morta quella donna, disse il testimone ai suoi amici. Aveva veramente visto Domenica Rustici appena uccisa con il suo assassino o si è trattato di una suggestione? Ma non è l'unico presunto avvistamento di Domenica Rustici quella sera. La cameriera di una trattoria di Borgo Piccinini, in centro, racconta di aver notato una coppia la sera del 4 novembre nel locale. L'uomo era alto e robusto, 45-50 anni, brutto, anziano e rozzo, con capelli brizzolati, un po' ondulati, senza cappello, con giubbone di pelle nera piuttosto trasandato, mani grosse, robuste ed abbronzate, con al polso sinistro un grosso orologio d'oro con un cinturino nero. Si esprimeva in dialetto. La donna invece era di aspetto fine e giovanile, circa 30-35 anni, vestita in nero, con un soprabito grigio. La donna parlava sempre in italiano. La cameriera dice di riconoscere la donna nella Rustici, anche se non è certa del tutto. La coppia è arrivata verso le 22.30 ed esce alle 23.30. Vengono mostrate la cameriera nella borsetta della vittima, ma non la riconosce come quella vista indosso alla sconosciuta. Afferma però che la donna, durante la serata, ha bevuto diversi bicchierini di liquore. L'autopsia non ha trovato tracce di alcol assunto dalla vittima, quindi possiamo escludere che si trattasse di domenica Rustici. Però quella trattoria ci può interessare, perché alcuni personaggi torneranno in uno degli altri delitti che avverranno più avanti. Per esempio c'è la cameriera, che tre anni dopo diventerà una prostituta e sarà sentita come testimona. In quel locale, a quell'ora, c'era anche un'allegra tavolata di agenti di polizia che notano di fianco a loro una compagnia di pregiudicati. Tra loro c'è anche un uomo, certo Gino Conti, che sarà sospettato di uno degli omicidi, quello di Elda Belmessieri, di cui parleremo in un altro episodio. La mattina dell'8 aprile 1955, un altro delitto scuote la città. Viene ritrovato il corpo di Ermina Mori, una prostituta uccisa con modalità simili a quelle che avevano caratterizzato l'omicidio di domenica Rustici, avvenuto solo pochi mesi prima. Di questo altro omicidio parleremo nel prossimo episodio. I due casi, separati solo da un breve intervallo di tempo, vengono quindi indagati contemporaneamente. Il caso di domenica Rustici finisce però in un vicolo cieco e nell'arco dello stesso anno il fascicolo viene definitivamente archiviato. I casi dei delitti del mostro di Parma saranno trattati in modo approfondito in un libro di prossima uscita che sto ultimando con il collega Edoardo Fregoso e che sarà presto disponibile. Nel frattempo che cosa ne pensate di questo caso e dell'attendibilità delle testimonianze raccolte? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e se la trasmissione vi è piaciuta vi chiedo gentilmente di mettere un like e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per restare aggiornati. Nel frattempo vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio e vi ringrazio per il vostro supporto. e vi ringrazio per il vostro supporto.